in inglese allontanati con quello e con il lancio di granate stordenti in fondo là vedete le ambulanze non sappiamo ancora se ecco guardate attenzione giustamente Elia è successo qualcosa in diretta sotto i nostri occhi abbiamo sentito forse degli spari adesso vedremo comunque sia se non riusciamo a riavere il collegamento potrebbe essere successo qualcosa senz'altro sentiremo il nostro Elia Milani almeno al telefono per capire che cosa sta succedendo speriamo chiaramente tutto bene io voglio tornare da Elia Milani perché ce l'abbiamo al telefono come temevamo qualcosa di brutto è successo un proiettile di rimbalzo ha colpito lo zainetto con cui Elia Milani stava lavorando per la diretta Elia sei in linea